Il titolo del mio articolo che uscirà in Ucraina, l'Italia non è soltanto vacanza, ma lavoro duro e serio dal mattino e fino a sera. Il titolo che il giornalista Pavel Shermet darà al suo articolo che uscirà a breve su Ukrainska Pravda, ovvero la verità ucraina, uno dei più prestigiosi quotidiani ucraini. L'articolo in merito alla visita fatta a Treviso e provincia in compagnia del Consolo Onorario Italiano in Ucraina e del Presidente Nazionale Ucraino della Camera di Commercio. Motivo della visita? Aumentare le relazioni e gli interscambi tra Italia e Ucraina, partendo dall'esportazione del sistema industriale della Marche del Veneto in Ucraina, dove si sta assistendo a una forte espansione economica grazie anche alla bassa pressione fiscale e pari al 20% contro il quasi 57% della nostra provincia e la media italiana del 60,9%, stando ai dati dell'Osservatorio Nazionale della piccola e media imprese in Italia della CNA. Tutto lo sviluppo che c'è stato specialmente nell'imprenditoria Veneta per loro è una sorpresa di capire come un'impresa funzioni, come una piccola impresa può crescere anche senza strutture enormi e di grande organizzazione. Il vinicolo e il tessile tra i settori più monitorati, vista la grande riforma in atto in Ucraina per gestire l'intero settore produttivo. La relazione tra l'Italia e l'Ucraina è molto forte. Le relazioni con l'Europa stanno aumentando in maniera ottima. Dal 1 gennaio è stato firmato un accordo con l'Unione Europea per gli accordi di entrare nella comunità europea per abolire tutti i tazzi di importazione.